Eccoci in un nuovo episodio del Paese dei Barocchi. Oggi è un'altra giornata speciale perché non abbiamo un ospite, bensì due, una coppia. Non esiste lei senza lui, non esiste lui senza lei. Quindi hanno comunicato il loro amore, i loro viaggi, le loro giornate, i loro litigi e le loro separazioni. Ma nonostante tutto inseparabili. Oggi con noi al Paese dei Barocchi c'è l'Est di Mare e Cristian Liguori. Wow, wow, io mi diverto troppo a fare le presentazioni. Non lo so perché è una cosa tipo che mi scrivo la mattina e mi ispira. Si vede che ti diverti, eh? Si vede. Allora, il viaggio com'è andato da Napoli? Ah, vabbè, traumatico per l'orario per me. Non sono abituato. Vabbè, alle sei di mattina ho visto la storia. Di solito mi ritiro, capito? E invece oggi sei arrivato. Allora, vi chiedo soltanto di mettervi più vicino al microfono. Se non ve lo avvicino io. Ok, perché se no non riusciamo a sentire. Allora, ci tengo a dire una cosa. È un podcast, scusatemi, molto tranquillo. Cioè, l'etica è sempre la stessa. Quello che volete dire lo dite, quello che non volete dire non lo dite. Qualche domanda forse andrà fuori dagli schemi, ma insomma, il massimo rispetto nei vostri confronti. È chiaro che il motore di tutte le persone che noi invitiamo sono i social attualmente. E quindi la domanda che faccio ad entrambi è come e quando avete iniziato con i social? Ma è partito che c'è una storia più lunga, forse. Io da quando ero più piccolina, che facevo i musical.ly, poi ho continuato su TikTok, poi purtroppo ho perso sia i profili di TikTok che quello di Instagram. E quindi poi ho dovuto ricominciare tutto da capo. Fortunatamente avevo già qualche amicizia che mi ha aiutato. E poi vabbè, portando comunque contenuti più che altro di moda, make-up e poi pian piano raccontando varie vicende della mia vita. Io mi ricordo quando ci siamo incontrati, mi raccontasti questa storia del profilo che è un danno, che io combatto molto per questa cosa. Non è possibile perdere profili, soprattutto TikTok, mi confermate, fa perdere profili come niente fosse. In che senso? Ve li rubano? No, il problema è che le linee guida secondo me sono molto stringenti. Io quando le ho perso però ero ancora minorenne, quindi non ci potevo fare assolutamente nulla. Io avevo i documenti di mia mamma sul profilo, però appunto non coincidevano con la meme in persona. E quindi ho dovuto per forza ricominciare tutto da capo. E tra l'altro sono stato tipo due mesi ferma perché pensavo di riuscire a recuperare almeno quello di Instagram, che per me era più importante, perché su Instagram ci vuole molto più tempo per crescere. Quindi appunto volevo recuperare almeno quello di Instagram, ma non ci sono riuscita, quindi ho dovuto appunto rifare tutto da capo. Quindi hai perso entrambi i profili contemporaneamente, nello stesso periodo? Non contemporaneamente. Prima quello di Instagram, poi nel frattempo TikTok mi è andato in shadow ban, e quindi tutti i miei video non andavano a virare. Praticamente io per le persone ero scomparsa. E come hai vissuto questa cosa a livello emotivo? Allora all'inizio l'ho presa sul ridere, nel senso di dire vabbè si risolve, perché per me i miei genitori mi riescono sempre a risolvere tutto, quindi io devo affidamento a loro. Poi parlando comunque con più persone, nessuno riusciva a fare nulla, e quindi niente, ho creato tipo un profilo provvisorio, che si chiamava CLSDM provvisorio, che poi è diventato CLSDM attuale. Beh però alla fine è piano piano risolto, cioè questa è una roba assurda. Ma pure le linee guida è l'assistenza che non esiste. Esatto, esatto. Se hai un problema è molto difficile risolverlo. Però posso dire una cosa, adesso senza fare pubblicità alle piattaforme, su Instagram è molto raro, ti rispondano, su TikTok almeno il ricorso, un esito te lo danno. Questo è vero. E invece Cri, io e te ci conosciamo, non facciamo ipocriti, io so molto bene come tu hai iniziato, com'è la tua vita adesso, però raccontami un po' anche il tuo approccio in questo mondo, che secondo me è stato anche un passaggio rapido in un certo momento. Sì, però è stato molto graduale, perché quando ho iniziato con i social, io non mi facevo vedere, tu lo sai bene, cioè facevo vedere l'abbigliamento, oppure le scarpe che compravo, cose del genere, però non avevo proprio, ero molto molto timido. Lo sono tuttora, però all'epoca molto di più e non mi facevo vedere proprio. Poi è stata una cosa graduale, mi ha aiutato tanto lei, perché da quando mi sono fidanzato con lei, è stata lei a farmi vedere proprio tanto, 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 e poi ho iniziato anche da solo, diciamo. E infatti come è iniziata la vostra storia? Chi ha fatto il primo passo? Lui, ovvio. Un po' instalova la storia. Ah sì, sì. È iniziata, sì, come un po' le storie del nuovo millennio da Instagram, l'ho contattata lì, non mi aveva nemmeno risposto all'inizio. Ah, veramente? Due messaggi non risposti. Proprio snobbato male? Eh sì. Tu ti sei incaponito a quel punto? Ma no, però poi così, ho detto va bene, gli rispondo un'altra storia e poi da lì. Insistenza. Bravo, hai tenuto duro. Bravo. Perché tutte le ragazze che contattavo le rispondevano subito, invece io no. A parte che io non volevo fidanzarmi, tantomeno lui voleva fidanzarsi. È successo tutto all'improvviso. Sì, eh? Infatti ti ho contattato per scherzare. Infatti non stiamo insieme. Beh, infatti lui ha risposto a una mia storia che io avevo un tatuaggio finto in fronte, cioè per farti capire. non era nessuna foto né provocante, a parte perché non le metto, ma nessuna foto particolare, appunto, è una foto stupidissima. E scusate, ma invece il vostro primo appuntamento fisico, in senso reale, fuori dal digitale? Aspetta, te lo racconto io. Perché io avevo 17 anni ed ero piccola e lui non sapeva ancora quanti anni avesse, però mi sembrava molto, molto grande. Tu sei molto più giovane di Cree? No. Io ne ho 20 adesso, lui ne ha 25. Ah, vabbè, dai, 5 anni. Però quando ne avevo 17, lui ne aveva 22, quasi 23, per me era grandissimo, perché andava ancora a scuola. E mi ricordo che io volevo vederlo da una parte, però dall'altro lato avevo paura, perché non lo conoscevo. Aveva una faccia più brutta di adesso. Aveva la barba, i capelli corti. Quindi avevo leggermente paura. Mia mamma non voleva ancora dirlo. E quindi non sapevo come fare. Quindi mi inventò la scuola di dover andare a scuola guida. Quindi gli ho dato un'ora di tempo. Ho detto, guarda, io ti do un'ora di tempo, non vado a scuola guida, vediamoci, però dobbiamo stare intorno casa via, perché avevo paura. E infatti siamo stati tipo al McDonald's. Ma non mi ricordo dove siamo stati. McDonald's e Zumiguan abbiamo fatto, per andare a vedere gli animali. Posso dire, si ricorda un po' più dettagli, Cristel? Cerca di non sbagliare questo intero. Io con la memoria sto messo male, però mi ricordo che lei disse quando ci possiamo vedere, o io glielo chiesi, io dissi pure oggi. Adesso. Vediamoci, vengo sotto casa. Sentite, invece... Ti ho interrotto, Lollo? No, 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 vai, vai. Quali sono gli aspetti positivi e negativi di avere una storia così pubblica? Cioè, pensate che in qualche modo sarebbe diversa se non fosse pubblica la vostra storia? O anche se non fosse stata, no? Esatto. All'inizio soprattutto. Forse siamo stati noi all'inizio a impostarla in un modo molto, appunto, esposto, perché mettevamo praticamente tutto. Di conseguenza a un certo punto, soprattutto nei primi litigi, o nei primi allontanamenti, lo sentivamo molto di più, il fatto di aver esposto sui social la nostra relazione. Mi ricordo che all'inizio, pure se non metteravamo una storia per due giorni, ci chiedevano... Vi eravate lasciati. Sì. Poi gradualmente è stata più naturale la cosa. E se doveste pensare ai vostri litigi, no? Qual è il motivo, secondo voi, per cui litigate di più ad oggi? Questa è una domanda che io faccio sempre anche alla mia ragazza. Cerco di capire qual è il motivo per cui si litiga di più. Ad oggi litighiamo quasi sempre per sciocchezze, fortunatamente, infatti lo risolviamo in un'ora. Forse abbiamo passato dei periodi in passato dove ho fatto qualche stronzata e quindi sono stati litigi più seri. E quindi, scusami, e quindi sull'aspetto perdono, voi che cosa pensate nell'ambito amore? Perdonare per gli errori del partner? Vai, vai, voglio sentire prima te. Ah, io non sono tanto bravo in questo. Io ti ho visto ogni tanto essere triste. Per me? Sì, sì. Non lo sapevo. Sì, sì. Infatti non glielo dovevi dire. Cavolo. No, io so che lui si innervosisce molto quando litighiamo, ma non che è triste. A me fa più che altro, non ci rimango male, ma mi innervosisce proprio perché poi mi riempia tutta la giornata a stare litigata con lui. Perché secondo me a volte l'amore, adesso non voglio toccare l'amore tossico perché, insomma, non so, non voglio dare definizioni che qua mi attaccano tutti poi. Però a volte l'amore è anche plasmare l'umore dell'altro, no? Cioè quando ami una persona, secondo me, madonna, ma chi sono Shakespeare? Riesce a plasmare l'umore dell'altro. Secondo me là, allora c'è proprio un'unione forte. Però, no, veramente, sono sincero, Celeste, l'ho visto un giorno non triste, non so adesso lui come vive la tristezza perché non l'ho vissuto tutti i giorni, però preoccupato per una situazione. E quindi, no, me lo ricordo. Divento muto quando... Io già parlo poco. Quando sono triste divento muto, quindi non è difficile capire. Sì, sì, ma poi ti ricordo anche il momento in cui ho vissuto questa cosa. Sì, sì, ma poi comunque, cioè almeno per quanto mi riguarda, io non riesco ad andare a letto litigata, come hai detto tu prima, con la persona che amo. C'è proprio una cosa che mi fa star male. Poi io sono ansiosa, figurati, cioè mi sento male proprio. No, io pure tanto. Infatti, quando magari mi dà la buona notte in modo diverso, dico ma che cosa è successo? Sì, sì. Poi, buono, sarebbe da io, però dobbiamo andare a dormire litigati. Sentite, invece, qual è la cosa più folle che avete fatto per amore? L'uno per l'altra, magari? Io ce l'ho. Vai. Allora, non so se stavamo insieme o non stavamo insieme, comunque, stavamo un attimo passando un periodo di crisi e mi sono tatuata le sue iniziali in bocca. Ce l'hai ancora? Sì, le ho pure ricalcate, ma non si vedono più ormai. No, vabbè. Wow. Però poi, dopo due giorni, inizia a togliersi e quindi gli mandai la foto per dire, comunque, avevo fatto questo tatuaggio per te, ma si è tolto. Poi l'ha rifatto, però si sbiadisce sempre. È perché so che il tatuaggio in bocca, con il fatto che ci sia la saliva, è un po' come adesso sotto i piedi non c'è la saliva, però so che sono le mani. Anche sulle mani, sì, sì. Si suda molto. E invece... Aspetta, voglio sentire lui cosa ha fatto. È vero, è vero, è vero. Questa è un'intervista tra di loro più che tra noi e loro. Le cose più folli sono state sicuramente le corse in macchina alle 4, alle 3, alle 5 del mattino a qualsiasi orario da Salerno a Napoli. Perché voi giustamente non abitate vicino. Stiamo un po' distanti. Insomma, relativamente, perché alla fine sono i 50 chilometri. Il problema è che poi col traffico, eccetera, diventa un'ora di macchina. Io pensavo... Mi ricordavo male, pensavo... Di più. No, pensavo più vicino. Ah, più vicino. Sì, sì. E invece, una cosa che non ho detto all'inizio, noi all'interno di questo podcast trattiamo diverse tematiche, social, introspezione, legami con la famiglia. Quello che voglio sapere è il vostro legame con i genitori attualmente, qual è? Con i vostri genitori, parlo singolarmente. No, io ho avuto, come ho avuto alti e bassi con Cristian, o anche con i miei genitori, però io mi rendo conto che sono le uniche persone, oltre a Cristian, che ci sono sempre per me. Cioè, io penso mia mamma, il marito di mia mamma, perché sono lasciati, mio padre non si sono mai sposati in realtà. Comunque, penso mia mamma, il marito e Cristian, cioè per me sono le mie prime tre persone a cui penso se mi serve aiuto o mi serve qualcosa. Ok. Sì, anche se è vero, crescendo si perde la stima che si ha nei genitori, però poi crescendo ancora di più si riacquista perché ti rendi conto che sono le uniche persone che davvero ti vogliono bene. Vorrei sapere anche il rapporto che Cristian ha con i suoi genitori. Ah beh, certo. Allora, io sono sempre stato molto legato alla mia famiglia, fortunatamente ho tutti e due i genitori perché ci sono famiglie che vivono delle situazioni un po' difficili, però da piccolo ero abbastanza schivo nei confronti della mia famiglia per una cosa forse che è un periodo che passiamo tutti. Poi quando sono maturato ho capito che la famiglia è veramente importante, soprattutto quando è unita, ti aiuta in tutto e non parlo di un aiuto economico o altro ma basta che ci sono. Voglio raccontare questa cosa io. Io e Cristian dire che siamo amici cioè per me sei un grande amico però a volte gli amici sono quelli o meglio l'immagine che sei all'esterno è quelli che vivono tutti i giorni insieme. Io Cristian l'ho conosciuto a distanza in un momento anche difficile perché anche io avevo perso un profilo e ci siamo conosciuti. Io la prima volta che sono andato a casa di Cristian ho conosciuto la madre e la madre è stata una persona super disponibile mi ricordo ci fece una cena o un pranzo non ricordo ritorno da Ischia adesso non ricordo e mi ricordo proprio il bene negli occhi quando le dicevi o le davi una carezza eccetera questa è una cosa che volevo alle famiglie del sud capito? No no infatti questo lo volevo lo volevo ribadire infatti scusa Niki se prima non ti ho fatto andare avanti ma figurati questa è una domanda che insomma c'entra poco con la famiglia volevo sapere se a livello di immagine sareste secondo voi diversi oggi se non foste insieme anche sui social bella questa domanda oppure riproporreste la stessa immagine magari tu che prima hai detto che in realtà sono una persona molto timide anche lo stare con lei in qualche modo ha cambiato il tuo modo di essere il tuo approccio che hai nei confronti dei social allora il mio modo di essere sarebbe stato sicuramente lo stesso magari non so se mi sarei esposto così tanto sui social se non mi fossi fidanzato con lei questo non lo so però il mio modo di essere è sempre stato lo stesso ok tu invece no io penso la stessa cosa nel senso per me non cambia nulla Cristani mi ha conosciuto in un modo e penso conferma che sono la stessa di tre anni fa a livello di social parlo certo a maturare sono leggermente maturata forse no forse un po' di meno scherzo no ma io voglio fare un attimo un passo avanti rispetto a quello che erano un po' di domande che mi ero segnato visto che stiamo parlando di social a livello di guadagni chi è che guadagna di più tra voi sui social parlo di social quindi non in cassi esterni social forse con i social attualmente cioè no lei con i social sì perché non lavoro tanto con partnership anche perché hai preso un percorso diverso che poi parleremo e se vi dovessi dire qual è il deal cioè il contratto o l'incasso maggiore che è arrivato da uno sponsor o da una campagna social se potete dirlo se volete dirlo se volete avere una forchetta anche no 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 io non ho problemi anche se parlando con altre persone prendo conto che io sono quella che guadagna di meno confronto a tante altre persone come dicevi mi dicevi prima il brand che mi ha pagato di più non lo dico perché non vorrei poi no no c'è però cifre ti parlo di annuali io comunque pacchetti molto molto lunghi che sono durati anche mesi e mesi e mesi il primo che quando ho visto questo ho detto cacchio tantissimo poi mi sono resa conto che effettivamente erano pochi mi è stato tipo di 8000 e adesso ne ho uno in corso di 10.000 quello di 8.000 quanti anni? l'anno scorso un anno e mezzo fa un anno e mezzo fa l'ho iniziato un anno e mezzo fa e poi l'ho finito l'anno scorso quindi quando fanno pacchetti così tanto lunghi è brutto perché questi soldi poi li vedrai alla fine di tutto quello che pubblichi dopo 30 giorni dall'ultima pubblicazione te li dimentichi praticamente invece Grì poi parliamo di altri deal dopo con te che credo abbiano più senso a voi piace molto viaggiare avete dei viaggi in programma qualcosa che volete rivelarci fortunatamente sì dove? si può dire? dove dire? l'hai spoilerato? no io non ancora tu? allora vogliamo spoilerare ok spoileriamo andiamo in Madagascar l'ho scelto io bello quando? a maggio maggio 13 e 21 stupendo wow e com'è questa scelta? ci vogliamo già non voglio vedere più città non voglio vedere più città però ci vogliamo già stare tipo andare il nostro primo anniversario mi sa il nostro primo anniversario volevamo andare in Madagascar però io andavo ancora a scuola quindi dovevo fare troppe no in realtà l'anno scorso però per impegni miei con le date non siamo più e senti io voglio chiederti una cosa anzi prima voglio chiederti una cosa celeste tu come vivi questa nuova esperienza di Cristian e se lo accompagni se lo supporti raccontami un po' questa cosa supportarlo sì perché mi fa piacere ovviamente però ovviamente ci sono anche i contro prima cosa perché non mi porta ah 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 quante date hai fatto quest'anno 34 c'è 34 33 quante ne hai fatte? sì più una trentina 2 3 ci sono stata perché non la porti? almeno 10 ma che dici? a volte problemi di logistica perché comunque vengono persone che vengono per lavorare fotografo gli amici insomma ognuno ha un ruolo cugino fratelli ognuno ha un ruolo quindi e perché pensi non ti porti con sé? perché vabbè io capisco il fatto che lui mi dice guarda ci sono troppe persone troppo casino troppo troppo tutto e quindi dico ok però se io te lo chiedo 30.000 volte ogni volta inventa una scusa diversa è normale che lì mi arrabbio e tu invece Cri pensi che sia normale? cioè nel senso aspetta c'è anche un plus ci sono delle gatte morte ah ah il tema ah ah quasi un altro tema lo sai meglio di me è la storia più vecchia del mondo con il dj ci provano tutte no ma nemmeno questo però in un locale si sa com'è comunque avere lei con me mentre io vado a lavorare alla fine non è che cioè mi diverto mi diverto ok però vado per lavorare finisco di suonare vado via certo e comunque avere il pensiero che c'è anche lei che non posso mentre sto lavorando appunto non posso vedere lei che fa ma non che faccia qualcosa di sbagliato però c'è casino ci sono persone magari quando finisco di suonare dobbiamo scappare cose così scappare nel senso che magari dobbiamo andare via dobbiamo tornare quindi lo fai un po' per proteggerla cioè per sì più che altro per stare libero mentalmente per non avere pensieri oltre a quello che devo fare farsi le foto abbracciate con le ragazze aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai qual è questa foto abbracciata raccontiamo questa foto abbracciata quando viene lei alle date le ragazze che vengono a farsi la foto con me sono proprio praticamente pochissime rispetto a quando nulle immagino Celeste è tutta la data così che guarda lui mi fa le foto magari tipo c'è qui un tavolino lui si appoggia al tavolino io sto dietro di lui così che guardo le ragazze che si avvicinano che loro guardano prima a me Do l'approvazione o non do l'approvazione E poi E in base a cosa approvi o non approvi? No, se loro me lo chiedono Mi fa piacere perché Dico che hanno un minimo di rispetto Nei miei confronti Ma quando si buttano oppure lo abbracciano A parte che è Cristiana che le abbracciano loro Però lì Mi arrabbio È tossico Qual è il ricordo più emozionante che hai di una serata? Un ricordo bello che hai che ti sei emozionato Che figata Allora In cui ti sei sentito magari Cioè importante Sì, allora Una delle date che ricordo molto bene È stata a Bari Quest'estate Sono salito in console C'erano tipo duemila persone Me ne ricordo le storie Me ne ricordo Accesi È un casino Capito quando sono entrato Un'altra data molto bella è stata Proprio quando ho iniziato Forse era la quarta data Cose così A Torino Al Black Vabbè No no Poi dire Ci devo pure tornare Tra poco Pure lì è stata bellissima Non pensavo Perché era la mia prima data al nord Quindi avevo un po' paura Della reazione delle persone Però sono stati caldi Mi sono divertito tantissimo Pure là Allora abbiamo parlato Un po' di Cree Io vorrei fare una domanda Celeste Vai E riguarda il brand di gioielli Allora io ricordo una cosa Ricordo un periodo in cui rispondevi a delle critiche Riguardo al fatto che i tuoi gioielli derivassero da Shane Adesso Shane voglio pronunciarlo male Mi racconti un po' che cosa è successo e la verità dietro questo Allora cosa è successo Che ovviamente Christian mi ha aiutato un sacco a cercare i fornitori Si sa che tutti i fornitori arrivano tutti da una parte Ovvero dalla Cina Non c'è ombra di dubbio Però loro mi hanno proprio accusato di aver comprato su Shane Quello che è E di averli rivenduti Cosa che sarebbe stata proprio impossibile Perché tipo i prezzi di Shane Ok 7 euro un anello Io magari avevo lo stesso anello a 11 Ma per le persone Io potevo mai acquistare un anello a 7 euro E venderlo a 11 Per guadagnarci praticamente nulla Perché poi calcola la spedizione I pacchetti Non lo so I costi di gestione I costi comunque di gestione E quindi mi hanno accusato di fare questa cosa E mi hanno addirittura deriso Dicendo non ne combini una giusta Ma in realtà I fornitori che magari forniscono me Perché io scelgo l'anello E dico voglio questo E magari fornisce anche Shane O fornisce anche altri brand Io purtroppo non ci posso fare nulla E da quella volta che me l'hanno fatto notare Perché io onestamente non lo sapevo Adesso sto molto più attenta Magari quando mi mandano i cataloghi Io metto la foto sul Shane Per vedere se c'è già Se esiste Se è argento Se è oro Se può essere una cosa che io posso avere solo io Ma certo Io credo che anche nell'aspetto dell'imprenditoria Scusami Niki Credo che gli errori comunicativi Possano esserci Ma credo a volte che quando sei sotto l'occhio Dei riflettori A volte si cerca anche un po' il pretesto Perché poi alla fine Se non vuoi una cosa Non te la compri Non serve alzare polveroni Io sono fatto un po' così Io non ho mai criticato nessuno sotto i commenti Anche prima di fare questo percorso social E come va? Cioè Vuoi continuare questa cosa? La vuoi... Sì, sì, sì Io volevo iniziare già un sacco di tempo E infatti quando ho iniziato Sembrava tutto un gioco Poi si è fatto proprio C'è fatto molto seria come cosa Vorrei farlo diventare proprio un brand vero e proprio Perché vorrei proprio disegnare modelli di... Perché maggiormente io vendo anelli Perché sono quello che io indosso di più Cioè io ho iniziato proprio perché le persone mi chiedevano Dove acquistassi io gli anelli E quindi proprio per questo ho iniziato con gli anelli Poi vabbè anche gli orecchini con l'ana eccetera Però vorrei proprio disegnarli io Proprio scegliere il modello Scegliere i materiali eccetera Però ovviamente ci vuole un po' di tempo Bello Perché non sono solo Bello però Perché comunque sei molto giovane È molto bello Sì Senti Cri Passando a te adesso Sappiamo che tu sei molto legato anche al calcio Sì Lo pratichi ancora Sappiamo che hai smesso per colpa di un infortunio in passato Sì Poi l'hai ripreso però Sì Diciamo che attualmente lo faccio Più per divertimento come un uomo Ok Però in passato è stata una parte molto importante della mia vita Perché lo facevo anche a livello professionistico E ho giocato al Benevento Cose del genere Sei attaccante tu no? Sì Quindi quando ero ragazzino Non che ora sia vecchio però Quando ero piccolo Quando ero piccolo L'hai comunicato molto poco sui social però questa cosa Ti ricordi una volta Hai detto ma perché non hai mai comunicato Cioè rispetto ad altri Influencer che basano anche no? Il loro percorso su L'essere stadio L'essere calciatore In realtà non lo so Del perché questa cosa L'ho comunicata molto poco Però ricordo che Prima di iniziare Con i social In modo insomma Avevo solo foto Mentre giocavo a calcio Che poi è eliminato In maggio archiviato Che poi ho archiviato E certo E certo E invece senti Celeste Ma non è il tuo primo nome questo Abbiamo letto No Che è successo col primo nome vero? Che ti ha fatto? Spoiler Allora Come già ho detto prima I miei figli sono separati In realtà sono mai sposati Però erano molto giovani Perché avevano tipo 20 anni Mia mamma e 25 mio padre Come noi Sarà un segnale chiaro? Spero di no E hanno sempre avuto Molti batti vecchi Anche tra famiglie E infatti La famiglia di mio padre Scelse un nome La famiglia di mia madre Ne scelse un altro E io dovevo chiamarmi Inizialmente Maria Celeste Perché mia mamma Fece Come si dice Un voto? Un voto? Un voto Alla Madonna Maria Celeste Perché infatti Scusami Non mi piace mai interrompere Però Perché in chiesa In chiesa sono licitata Maria Celeste C'è Maria Poi c'è l'altro nome E poi Celeste Quindi non al battesimo Sì Io sono battezzata Come Maria Questa roba L'ho sempre mandato Perché io so Che ci sono i nomi Ragazzi Anche voi fuori camera Ditemi se è così Ci sono i nomi Dal battesimo All'anagrafe Perdonatemi Che sono i nomi ufficiali Ok E non c'è Maria In questo nome Ok C'è solo in chiesa Esatto Bene ok Scusatemi Infatti il mio onomastico È a Santa Maria Ok Che è anche Santa Celeste Cioè Maria Celeste Ok Però mio padre Quando andò a scrivermi All'anagrafe Non A parte che doveva essere Maria Celeste Dall'inizio Quando andò a scrivermi Non mise Maria Mise quest'altro nome E non mise neanche la virgola Oppure un trattino Qualcosa Un unico nome Quindi io Ovunque Mi chiamo Celeste Anzi Ho inventato questo nome Che si chiama Lusilla Ma non è Lusilla Quindi Lusilla Celeste Ah Quindi non vuoi rivelarlo No Non lo dirò Perché non ti piace Qualcuno lo sa Però molte persone L'hanno dimenticato Quindi meglio così Cioè è peggio di Lusilla Non è peggio Perché non è un brutto nome Però una promessa Che quando chiudiamo la camera Io lo voglio sapere Voglio sapere se è veramente E poi non è brutto Posso fare una domanda Il biglietto per l'aereo Qui chi me l'ha fatti Uuuuh I biglietti dell'aereo Scusami Sara puoi chiamare un attimo Alessandro Vorrei che Alessandro L'imperativo no Vorrei i biglietti Del treno di Celeste Christian Ma anche Christian Ha un doppio nome Ah Madonna Ma perché io non so queste cose E si può dire? Ma sì A me in realtà È un unico nome Eh pure a me è un unico nome Io l'ho tagliato In realtà Così Così E com'è? E com'è? Mario Christian Mario Christian? Bruttissimo purtroppo però Unico penso in Italia Sì Vabbè ma al sud Forse si usano tanto Questi doppi nomi Al sud ci sono sempre Questi problemi Con la famiglia Perché mio nonno Si chiamava Mario E prima che nascessi Insomma Nel mio paese Già Si parlava che Stava per nascere Mario Mario Junior Però posso dire Christian Ti si addici di più Sì infatti Mi hanno sempre chiamato Tutti Christian Poi non mi è pure un po' Da strada No Ma la strada no Però No è figo Christian Cioè non so perché No sì è figo Mi piace Ma è bello anche perché c'ha l'H Sì 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 Ah certo perché c'ha anche Christian senza H Per l'attitudine eh Non ci mancherebbe Lo sai quello che pensate Senti invece andando su un terreno un pochino più scivoloso Celeste Lusilla Drusilla Vogliamo fare chiarezza una volta per tutte Su questa questione Questione arabia La carne Il viaggio I pianti Ma che è successo Ma che è successo Mi posso dilungare perché io ve la spiego tutta Dilunga Sì 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 Non la voglio spiegare tutta Tanto dobbiamo aspettare i biglietti Cosa è successo Dovevamo fare questo viaggio Per una compagnia aerea che dovevamo sponsorizzare Perché una volta all'anno fanno questo viaggio a sorpresa Una meta sconosciuta Però essendo appunto un viaggio di lavoro La mia agenzia sapeva qual era La meta effettiva E infatti quando ce l'hanno proposto Io sapevo dove sarei dovuto andare E infatti la meta era Abu Dhabi e Dubai E anche un'altra ragazza che era con noi sull'aereo Che la madre lavorava in un'agenzia di viaggio Anche la madre sapeva che appunto era Abu Dhabi e Dubai Perché comunque le aziende Cioè le agenzie comunque di viaggio Comunque anche di social eccetera Sanno qual è la meta Qual è la meta certo E quindi quando atterriamo Mi ritrovo in una terra Sperduta Non vorrei che le persone di nuovo mi si accaniscono Però stavi da sola Però immagina che io parto Sapendo di atterrare da Abu Dhabi o a Dubai Perché dovevano essere una delle due Mi rendo conto che non era né a Abu Dhabi né Dubai E mi rendo conto che mi dicono Benvenuti a Riyadh Io non voglio essere neanche ignorante Ma Riyadh è aperta al turismo da pochissimo Giusto? E quindi Riyadh Era una città che io non conoscevo minimamente Voglio essere ignorante Non posso essere ignorante Ma comunque non la conoscevo Ma ci sta A tenata lì ho visto tutte persone Ovviamente vestite diversamente da me E poi mi sono resa conto Che ho fatto sette ore di aereo Per arrivare in un posto Che non mi ero proprio preparata psicologicamente Cioè sono una persona che quando viaggia Prepara tutto nei minimi dettagli Quindi partire per una meta sconosciuta Che sconosciuta non tanto lo era E poi mi ritrovo a Riyadh Mi è proprio crullato Però posso dire Il mondo addosso Poi sette ore d'aereo Cioè non è proprio facile Scendo Comunque io così inizio Scoppio a piangere Poi vabbè visitiamo Due tre ore Quello che dovevamo visitare E dico ah però Mi dava tipo Le vibes di Charme Shake E a me Charme piace abbastanza Poi vabbè metto questo video Perché io metto molti video Dove faccio cazzate Però io pretendo tanto Che le persone capiscano me Come ragiono e come penso Però so che molte persone Non la pensano come me E quindi mi hanno accanito Per questa cosa Che poi io non solo Sono partita Mi sono pure lamentata Che poi sono da Riyadh Mi cedendo da Abu Dhabi a Dubai Io mi ricordo questa cosa Io In realtà Io non ho fatto molti viaggi Ok E soprattutto non ho fatto viaggi Estremamente Ho fatto Los Angeles New York Viaggi tranquillissimi Sai dove arrivi Sai quando torni Sai quello che fai Anche io forse Trovandomi di colpo a Riyadh Vabbè tu sei uno un po' Cioè col controllo Tu devi avere comunque la situazione Col controllo Tu mi conosci Vado là Pure Christian mi conosce Vado là Non è che scoppio a piangere Io rimango dentro l'aereo Capito? Fai in panico No no ma infatti Allora io dico una cosa Per me i social oggi Sono diventati Allora A me fa ridere questa cosa Le piattaforme vogliono Un controllo fortissimo Sui creator Sui contenuti che portano E in realtà Io penso sempre Che sono i content creator Che danno la base Alla piattaforma Cioè Senza i tiktoker Tiktok Non esiste Allora dico io Non capisco Come è possibile Che ad oggi Non ci sia un giusto controllo Su quello Che scrivono le persone Allora per me A volte io ho detto Servirebbe quasi Una forma di giurisdizione interna Perché non è Anche tutto il tema di Fedez Adesso non voglio aprire Questa tematica però Sul fatto degli insulti ai figli Cioè ragazzi Questa non è una roba normale Perché poi Io non vengo a casa tua O non vado in giro Vedo celeste Dico Oh sei stupida Scusami questo termine Per farti capire Non è una cosa Che nella realtà Cioè consentita Non capisco perché Sui social Dovrebbero esserci tipo Moderatori Come sono nelle live Brava Ma anche Proprio nei commenti O comunque Dei messaggi Moderatori ovviamente Persone che conosci A me potrebbe essere Mia madre Mio padre Perché possono tutelarmi Perché poi sai Qual è il problema E che quando una persona Dice una cazzata L'altra persona Che la pensa Però non la scrive Quando la legge Dice Ah quindi è vero Allora lo scrivo anche io Quindi alimentano Sì oppure metti like al commento Allora Ho fatto la puntata Nella puntata con Sofia Che è uscita Abbiamo detto proprio questo Che è un po' il principio di massa Cioè entro nei commenti Vedo che dieci persone Ce l'hanno con Cree Allora Ah ma se dieci persone Ce l'hanno con Cree È sempre più facile Odiare che amare Un po' come è stato Per questa nuova piattaforma Che è uscita recentemente Ah Trez 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 Un trend Insultare qualsiasi persona Postasse qualcosa Sì è una cosa È una cosa che non mi piace molto E questo tema L'ho sollevato tante volte Ecco perché sono stato Anche molto stretto Perché ho mia sorella Che è piccolissima E poi io vedo Che mia sorella È proprio piccola Piccola Cioè non è Non la vedo una Piccola ingenua Piccola ingenua E dico ma Certe volte dicevo Cree Nel periodo in cui Madonna mia Se adesso con questi video Che faccio con mia sorella Mia sorella Rimane un po' scioccata Mi sono fatto dei pensieri Perché io leggevo delle cose Ma io leggevo delle persone adulte Ragazzi io leggevo delle persone adulte Adulte Intendo adulte Che scrivevano delle cose Sì sì Che poi si deve vedere Sono i più adulti Cioè persone di una certa età Ma il problema era Non solo aspetti negativi Ma anche apprezzamenti eccessivi Apprezzamenti eccessivi Che io ho degli iscritti Adesso non posso farli vedere Perché sennò veramente Faccio il fedez della situazione E non ci mancherebbe Però ragazzi È un tema serio Io vorrei fare una domanda celeste Per quanto riguarda La storia di Carmen e Veri e Sasi Ecco di questi temi Di questo tema Ecco Io sono stata zitta Un sac Cioè sono stata davvero zitta Allora io queste domande Non le faccio per mettere in difficoltà Perché sono successe Sono tutte pubbliche È il tuo modo per poterti esporre Sul tema Carmen e Veri e Sasi Chi spiega che cosa è successo E se vuoi E anche tu Prima voglio dire una cosa Tutto nasce sempre perché non mi ascolta Vai Allora Vabbè non voglio entrare troppo Nei particolari Quando è successo questo scandalo Questo scoop Prima ancora Che le dirette interessate Ne avessero saputo Sì Giusto L'avessero saputo Io ho chiamato Carmen Per dirle Guarda è successo questo Questo e questo Quindi se vedrai Totto cose Ti ho già avvisato Purtroppo ho mandato quest'audio A questa mia amica Non pensavo che questa mia amica Potesse andarlo a dire in giro Perché effettivamente Chi è che non racconta Le proprie cose Ad un'amica Per me Questa persona A cui io avevo mandato degli audio Era una persona Che davvero sa Ogni Sapeva Ogni mia cosa Sapeva anche quando io andavo in bagno E quindi Quando mi sono resa conto Che questa persona Ha inoltrato tutti i miei audio A la cugina La cugina L'amica L'amica Il gruppo Dell'università Eccetera eccetera Mi sono sentita sprofondata Perché Ripeto Le persone a volte Non mi capiscono Io pretendo Dalle persone Che sono nella mia mente Ma in realtà Purtroppo non è così E quindi Mi sono dovuta giustificare Mi sono dovuta giustificare Di cose Che non avrei voluto giustificarmi Non mi sarei voluta Vabbè hai capito Certo Mi sono un attimo nervosendo Perché La persona non si è neanche Scusata Bene con me Cioè io sono veramente Rimasta male Perché l'ha fatto? Cioè per prenderti in giro? Per screditarti? No penso che quello lì Si è susseguito dopo Tutte le altre persone Che non mi conoscevano E per marciarci su E non ce ne fregava nulla Dico Ah faccio lo scopio Ci hanno marciato molto Molto su E questa persona Onestamente non so Perché l'abbia fatto Perché Probabilmente L'ha fatto anche ingenuamente Perché voleva semplicemente Raccontare Farlo sapere Anche la cugina E poi è girata la voce Come magari Se io dico Cri ho visto Questa tua amica Sta con questo tuo amico Ma non sono fidanzata entrambi Cri magari lo dice l'amico L'amico E si sparge questa voce Comunque posso dire Che è una forma di violenza Si 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 Ma infatti Non si fa Cioè come mandare un video Di una persona In giro Non si fa Ecco si Sai qual è anche L'altro problema Che purtroppo Io non ho tanto pubblico Di Napoli Mentre loro si Quindi tutte le persone Che seguono loro Vedendo me Mi hanno detto Chi cacchio è questa Perché io A parte un pubblico diverso Perché porto Contributi differenti Ma anche per età E anche per età Per età di pubblico E anche per posti Perché io Napoli Ce l'ho al terzo posto Tra le città Che storia Che storia No ma io voglio fare Un commento Su questi temi Cioè i social Amplificano Quello che succede La vita di tutti i giorni Allora Michi sai Che cosa pensavo L'altro giorno Allora Se ci fosse una telecamera In ogni casa Di ogni essere umano E Iniziassimo a pubblicare Questi video online Più che altro Sai cosa Il punto dove vuoi arrivare È che Quando fai un video Sui social Vuoi stare attento Al minimo dettaglio E il comportamento giusto E la parola Le famiglie Secondo me O la vita di tutti i giorni È fatta anche di normalità Io non posso dire Di non aver mai mandato Al mio miglior amico Mattias Un audio Su dei temi delicati Ma no certo Ecco Supponiamo Io e Mattias Anzi Il fatto che Mattias Non appartiene al mondo social Quindi questo tema Non accade Purtroppo Chi è nel mondo dei social Può in qualche modo Subire queste 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 problematiche Però io non Insomma Non condannerei a morte Per queste cose In cui io mando Un audio privato tuo Che mandi a me Lo mando a x persone Secondo me è lì l'errore Perché un conto Se io poi mi vedo Con il mio amico Glielo racconto a voce Vabbè Ma se proprio c'è la tua voce Che dice determinate cose Cioè ti sputtano È brutto È brutto gesto No 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 ci sta È però Casomai io con il mio migliore amico L'ho fatto Cioè non posso dire Io sono Cioè non l'ho mai fatto Capito Cioè è successo Ma anche semplicemente Per comunicare Un audio di quattro minuti Dico Matt Senti di quest'audio No ma certo Ma dico in cui magari Dici cose delicate Non audio logistici No 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 Certo certo A livello lavorativo Che ci sta Certo Senti Cri Invece parlando di cose più leggere Qual è il tuo sogno Nel cassetto come DJ Ci sono dei posti In cui ti piacerebbe suonare In futuro Delle ambizioni Insomma Sicuramente Farlo anche in altri paesi Perché comunque Non che in Italia sia facile Però magari farlo In altri paesi Inizia a diventare Una cosa internazionale Stiamo parlando di Anche di casce diversi Immagino Sì anche Però Guarda te lo dico più Per una Fosatisfazione personale Perché per soldi Sì ti dico la verità Ci sta E invece Celeste Il tuo sogno Nel cassetto Nel futuro È quello di Lavorare nel mondo della tv È quello di essere Un influencer sempre più presente Di essere un'imprenditrice Di essere una mamma Una mamma imprenditrice Esatto Le cose insieme Sai che non lo so Mamma ha detto così Un po' Cioè Io vivo troppo alla giornata Io non penso mai A quello che Potrei fare un giorno Oppure cosa Io vorrei diventare un giorno Se Voglio fare Veramente Io non Non so nulla Sto cercando di Trasmettere un po' Un po' di buonsenso Però non è facile E invece Da un punto di vista Relazionale Voi In un futuro Avete dei progetti Volete sposare Non lo so Avete dei sogni Celeste Si sveglia un giorno Che vuole convivere E un giorno Che non vuole proprio Parlarmi Almeno parlarne Un giorno dice Guarda che belli Questi bimbi E poi guarda Ti dice No Per carità Un bimbo no Mai Ovviamente è prematuro Parlarne Però lei proprio Così A giorni Non ne vuole proprio Sapere nemmeno tra dieci anni E giorni che invece E tu invece Cristiano lo vuole un baby green Lo voglio È una parola Cioè è una parola grossa Però sicuramente In un futuro È una cosa che Non oggi diciamo Diciamo che è l'obiettivo di tutti No? Fare famiglia Però a che età ti vedi papà? Cioè io Io per esempio Un'età ce l'ho per me Anche così potetica Voglio sapere la tua Io Ti dico la verità Ci sono due Una forza Una forchetta Una forchetta Allora 28-32 Questa E poi dipende però Da molte cose Tipo L'aspetto economico Infatti Io che sono un po' più grande di voi Vi dico Cioè è inutile farsi questi progetti Perché poi tanto la vita È proprio Imprevedibile Imprevedibile Però tipo Ecco So che stiamo andando un po' fuori tema Però Parlando di figli La mia prima preoccupazione Molte volte Sento dire in giro È frutto dell'amore No? Però La mia prima preoccupazione È capire cosa posso dare A mio figlio Io parlo con mia madre Mia madre dice No Lore ma tu devi pensare All'amore di coppia Al figlio Io la prima preoccupazione È capire Se ho una casa Cosa posso dargli Perché mettere al mondo Un bambino E poi Farlo vivere Una società consumista Che lo è Non sto parlando di temi politici Dove servono soldi Per vivere Boh mi sembra Che gli sto facendo un torto Più che un bene A metterlo al mondo Invece voi che pensate Riguardo questi temi Io proprio per la questione soldi Ad esempio Io non so gestire i miei Figuriamoci se io dovesse avere Un bimbo Una bimba E dover gestire La mia vita Cioè i miei impegni Le mie cose Anche con quelle Di mio figlio Di mia figlia Io non credo Di essere ancora pronta Ma lo dico molto molto spesso Si sta E quando ti dice Che campa la giornata E anche economicamente Si 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 Cioè magari oggi Potrebbe arrivare Un bonifico di mille Cioè a spenderli oggi Ma non mille Mille cento Quindi un rapporto Con il soldi un po' così Tu Enichi Invece che cosa pensi Di questo tema dei figli Tu che sei più grande di me Ma secondo me Intanto per una coppia È importante Avere dei progetti Perché secondo me Se non c'è una progettualità Ma non nel senso Dobbiamo per forza sposarci Avere dei figli Non è obbligatorio Uno può essere felice anche I miei non sono neanche sposati Per dire Senza avere dei figli Senza essere sposati Non è questo il discorso oggi Che è veramente Però secondo me Anche stare insieme Non sapere dove si sta andando Lo dico anche per esperienza personale Alla fine poi Non lo so Bisogna avere secondo me Dei progetti in comune Poi possono realizzarsi Come no Uno può lasciarsi comunque Chi se ne frega Capita Però insomma Dei progetti Anche piccoli Io per esempio Andare a convivere Io l'ho proposto molte volte Ma anche lui Ovviamente non oggi Però Siete giovanissimi Voi ragazzi Però che un giorno Mi piacerebbe Sì Poi magari le cose cambiano Questo Ma che poi in realtà Noi conviviamo Praticamente Perché la nostra relazione Si basa Che lei viene a casa mia Sta sei giorni Poi magari lei Ha degli impegni Va via Poi torna Ti porti la varigia Sì Io credo Io credo Che tu abbia voglia Di crescere Un essere umano Con lei Quindi è questa La cosa fica Poi possono cambiare le cose Potete lasciarvi domani Chi lo sa Cioè Così la vita È anche il bello della vita Psicologo di coppia Wow Nicole mi fa impazzire Perché ha la sua visione Perfetta su alcune cose Insomma Allora Invertiamo un pochetto i giochi Generalmente Nella parte finale del podcast Noi facciamo due giochi L'ampolla golosa E le carte del paese dei barocchi Che faccio vedere In camera Allora Come funziona L'ampolla golosa Poi la spiegherà Nicole Io parto dalle carte Generalmente Siamo cinque carte per ospite Abbiamo diviso Abbiamo fatto una sorta Di media ponderata Delle carte E decidete Allora Come funziona Ci sono dei nomi Di persone Ok E voi potete fare Due cose O comunicate al pubblico La persona E dite ciò che pensate Su quella persona O non comunicate Il nome della persona E dite ciò che pensate Oppure se proprio Volete astenervi Non l'ha mai fatto nessuno Quindi vi consiglio di non farlo Chi vuole iniziare? Io Vai Non avevo dubbi Allora Queste sono le carte Che non facciamo vedere Chiaramente Poi fammi vedere A noi Fai vedere a noi Il nome Che non Sembrava una Minaccia La tua Non si è mai astenuto Nessuno No 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 Te l'ho già Lo devo fare Lavoro Scontato Faccio per ultimo Per ultimo? Oddio Peggio me sento Io posso vedere Oh no Questa qui mi piace di più Martina Trinca Marti No Marti È una mia amica Siamo Tra virgolette Cresciuti Mi ha fatto morire prima Io devo capire chi è Perché non ho capito Devo vederlo Anch'io È impossibile non capirlo Vabbè Comunque Marti È una mia amica Siamo cresciute Cioè Ci sono stati Periodi in cui siamo state Molto molto In tempo insieme Però vabbè Ognuno ha preso le proprie Ci sentiamo ogni tanto Però lei Ha il suo percorso Io il mio Prima magari Avevamo qualcosa In più in comune Adesso Non più Vi siete un pochetto Distaccate Ma anche perché Lei si è trasferita Qui a Milano E io sto ancora a Napoli Magari quando Prima abitavo a Roma Era più facile Anche vedere Adesso non tato Avevate anche un tatuaggio Insieme voi no? Sì lei l'ha tolto Io no Ah Perché Aspetta Adesso lo spiego L'ho già spiegato Vabbè Qualcuno non lo sa Io volevo fare un tatuaggio E anche lei E volevamo fare un tatuaggio Uguale ma Che non fosse Qualcosa che Ci appartenesse Ognuna era per Un conto proprio Io c'ho Il 7 perché Il giorno del mio compleanno Il giorno fortunato Il numero fortunato Bla 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 E lei Per alcuni suoi motivi Poi lei L'ha modificato E quello che poi ha fatto Non le è piaciuto Quindi l'ha tolto Io l'ho lasciato perché Cioè volevo L'ho fatto Ti sta anche bene Penso ti piace Quindi non lo direi Ci sei rimasta male No 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 Perché noi l'abbiamo fatto Ognuna per conto Proprio è vero L'abbiamo uguale Sesso posto Sesso tatuatore Però per motivi diversi Per motivi diversi Non era una questione mia Di amici Non c'era assolutamente nulla Poi questa per ultimo Fammi vedere Ok tu hai letto Sì Devi scegliere tu Vabbè Io non ho nulla da dire L'ho conosciuto Quando eravamo più piccolini E ti arrabbi se dico Che ero pazza innamorata No pazza innamorata No Mi attraiva Però posso dire una cosa Era solamente perché Ero talmente piccola Avevo tipo 14 anni Che mi attraiva solamente Il fatto che lui Fosse famoso Tra virgolette Ah sì Sì E vuoi dire chi è No 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 Non mi interessa No no ci sta Ci sta E vabbè Attenzione Attenzione A girare queste carte Attenzione Attenzione È una persona Che mi ha fatto stare Tanto 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 male Ma proprio tanto E basta Chiudiamo qua Ok Bene È il turno di Cristian È il turno di Cristian Io sto vicino a te Vedrò tutte le carte Non so cosa aspettare Voglio vedere anche Fai vedere anche Ah No vabbè Non ho detto Ah ok Non l'ho mai conosciuto Secondo me Ha avuto poco rispetto Per la nostra relazione Tra l'altro Davanti a tante persone In una live Però è finita lì Anzi mi chiese anche scusa Sì Quindi pace e amore Ok Vuoi fare Vuoi comunicare chi è? Te la senti? Ah sì Greenbaud Ok Questo chi? È chiaramente È Appartenente alla nostra community Ok 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 Vabbè Posso dire Pachi Pachi Sibillo L'ho conosciuto È un bravissimo ragazzo Ci siamo Ci siamo visti Per i primi periodi Che ci siamo conosciuti Niente Magari Io L'ho aiutato anche In qualche lavoro Poi Ci siamo Ci siamo distaccati Molto Non so perché Non sai perché O secondo te C'è stato qualche Cioè Per la La normale fase Degli eventi O secondo te è successo qualcosa Che hai pensato Forse è successo questo Forse Ma no Io sono sempre molto easy Quindi penso Semplicemente Lui Lui fa un percorso Io un altro Però Va bene Però sei stato Sei stato Sei stato molto chiaro Insomma Sì 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 No ma Stimo Ah Vabbè Io li posso dire tutti Praticamente Diego 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 Lanzari Un fratellone L'ho conosciuto Che ci invitò A Formentera Per il suo video E massima disponibilità Ci siamo divertiti tanto E spero di vederlo presto Perché siamo beccati Pure recentemente A Comun In Villa da Lui Che fa è anche questa No Allora qui è una parte speciale Celeste ha ceduto Una carta a Cree Fammi vedere chi è Allora Vediamo Vediamo Io qua Si gira No 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 Dai Sì 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 Ho visto Ho visto Sì sì Vabbè Non ho nulla da dire Prima che Prima che insomma Mi fidanzassi con lei Abbiamo parlato Ma non c'è mai stato nulla Di concreto Capito No io Non capisco Vabbè Chiaramente qui Non posso andare troppo dentro E non lo voglio neanche fare Però Il fatto di essere stata male Ma perché C'è stato un litigio tra di voi Niente solo uno Tantissime Eh ma io queste cose non le so Sto fuori dal mondo Va bene Ma avete risolto? Vabbè mai per motivi reali Alla fine quindi No sempre per altre persone Capito Ok E tu invece Cree? Cioè hai avuto litigi Con questa persona? Oppure no? Pace Io pace con tutti Capito? Io sono molto Tu mi fai morire Fai anche i miei No E ho fatto già Noi E me tu erano troppo semplici Forse sono stato un po' di parte Sì Quando le abbiamo scritti Troppo buoni Dai È che una l'hai detta Quindi È Martina L'altro Martina Trinca? Che pensi di Martina Trinca? Ma non l'ho conosciuta bene Quindi Boh Non lo so Va bene Ma se no l'ho conosciuta bene Lui non lo conosco Ci siamo beccati A Milano Recentemente Mi è sembrato un bravo ragazzo Ci siamo anche seguiti sui social Quindi Sticato Posso dire una cosa? Chiaramente l'ho conosciuto Un poco tempo fa Però mi sembra un bravo ragazzo Sì Che non dà fastidio a nessuno Ma poi Cioè nel senso È una cosa vecchia Non so No ma ti ripeto Cioè avevo tipo 14 anni Vabbè certo Ma una persona cresce Poi vabbè Ma sì Che è se no Gelosia retroattiva? No No Però io per esempio Un po' retroattivo Non avevo dubbi Io non avevo dubbi Io ho tutti gli elementi tossici Ma pure io a volte Però boh Cioè a pelle Molto a pelle Magari lui non mi dà Allora io prima di fare L'ampolla colosa Però devo dire una cosa A Celeste Io Ti ho dato fastidio Sì Ti ho dato fastidio Io l'amo Cioè Allora affrontiamo questo tema Sai perché? Allora Mettiamo un attimo Delle piccole parentesi Io e Celeste Non abbiamo avuto Nessun litigio Vero e proprio Però c'è stato Un momento particolare In cui Insomma Mi ricordo Mi hai smesso di seguire Io poi l'ho fatto con te Ti seguivo? Non mi ricordo Sì 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 Mi seguivo No no Non voglio No veramente Non ricordo No no Allora se mi date il permesso Tutti quanti Io vorrei E tu vuoi Chiaramente anche Affrontare questo tema Perché io non ho capito Che cosa ho fatto Nei tuoi confronti No nulla Lei ha odiato Tutti i miei amici No no Però giusto In particolare Però è stato solamente Per quell'arco di tempo In cui io e Cristiano Non stavamo insieme Capito? Ci sta Perché E anche No no Anche dopo Anche dopo perché Ho scoperto altre cose ancora Ora che poi Non so se sono state cazzate o meno Comunque Fatto sta No però io sono Cioè io sono disposto Chiaro che Sembra come se lo volessi fare No non posso fare Non mi ricordo Neanche bene Le cose specifiche Però Cioè hai avuto L'impressione Che tu non eri fidanzato Giusto? No Ai tempi no Che volessi trasportare Cristiano A fare cose sbagliate Quindi un diavolo tentatore Allora Sembra tutto così carino Guarda Io e te ci conosciamo poco Celeste Ma ti posso assicurare una cosa E spero che Cristiano È chiaro che Lui non potrà mai dire il contrario Però Io non sono Proprio come Come secondo me Tu immagini Nel senso che Cristiano mi conosce Io sono una persona che sta molto al suo posto Non sono una persona che va alla ricerca Della ragazza quotidianamente No ma infatti è quello che Che io prima pensavo di te Ma tuttora adesso Cioè oggi lo penso ancora Io sono stato due volte con Cristiano In contesti particolari Ok? Tutte due volte ti ho odiato? Ok Allora in un contesto Credo No in contesti particolari Intendo contesti dove ci siamo vissuti di più Che è stata la mia laurea Esatto E la vacanza in Sardegna Esatto Ma io lì Ti dico la verità Allora La mia laurea Ho invitato Cristiano Perché ci tenevo E ricordo Anche che ci sono state delle cose Che sono state completamente Una delle due cose Ma quella roba lì Io voglio farti capire una cosa Scusate Poi decidiamo se tagliare queste cose Anche tu me lo dirai dopo Quando una persona Come voi Come Cristiano Nota Arriva in un paesino come il mio Come Sora Capito che Non è all'ordine del giorno Quindi tutti quanti Cercano di creare Sai L'argomento del giorno Io ho fatto una strage Per quella roba lì Che successe Cioè A me Cristiano per esempio Il dopo non me l'ha raccontato Capito Ma il dopo Io stavo Io me lo ricordo Quando arrivò quella comunicazione Quella roba lì Quei messaggi E io lì Guarda Ma non ci posso credere Che gente È riuscita a fare Perché alla mia festa di laurea C'era tanta gente del posto Ho detto Non ci posso credere E mi sono sentito in colpa E ho detto Dimmi cosa posso fare Ok Cosa posso fare Sai qual è la cosa Che stentavo a crederci Il fatto che Non erano voci Era proprio quella persona Che Vabbè però era fantascienza Con tutta la gente Che c'era Cioè io voglio farti un esempio Lo sai che è la mia festa di laurea C'era mia nonna Mia madre E' la casa mia Te lo giuro Te lo giuro Però tu persona Che mi vieni a scrivere determinate cose E quella è la paura dei social Ma tu che problemi hai Perché non è l'amica Di questa persona Che me lo viene a dire Proprio tu Ma che problemi hai Perciò io Avevo suo dubbio perenne Perché dicevo Ma una questione che L'amica dell'amica L'amica Il profilo fa Alzo di qua e di là Una questione che Mi scrive Una persona Io dico Sì è vero Ma come è vero Cosa è vero Questa cosa mi dispiace Io ti posso dire Che quella sera Io non voglio tutelare nessuno Non faccio a boccaire nessuno Io quella sera Ero con Cristian Cristian era la mia festa C'erano anche i miei genitori Era un contesto normale Mi rendo conto Che c'era anche colmi bucci C'erano un po' E quindi forse Alcune persone Hanno approfittato Di queste tematiche E qui hanno comunicato Ci vado da non fidanzato Vero anche questo Ma sono stato Cioè Mi ricordo Che c'è stato Questo nostro Questi scambi di messaggi Ma io Cioè non Non ho fatto niente Contro di te Capito? No contro di me no Però Non so perché Cioè tipo io Con le mie amiche C'è un rapporto Che se lei sbaglia Cioè se è un tipo Allegra ok Ti faccio la sua ipotesi Lei sbaglia a fare una cosa Sì Io le dico Guarda Allegra Che tu stai sbagliando Ma ti rendi Tutti quello che stai facendo E invece da parte tua E anche dagli altri amici Con cui stavi Eravate voi in Sardegna Mi sono resa conto Che sembravate felici Del fatto che Cristiano non stesse con me Ci tengo a dire Questo Non voglio prolungare la cosa Perché Io Non sapevo benissimo Cioè io a differenza Forse di altri amici di Cristiano Ci tengo a dire questo Quante volte ti ho detto Pure vorrei chiarire con Celeste No Di se ho scritto Perché Io non Vado in vacanza Che so poche cose di voi Cioè non è che ho vissuto Con voi Ho fatto vacanze con voi So poche cose Mi rendo conto Che non sta succedendo niente E che in quel periodo Tanti comunicano cose non vere Cose non vere Quel periodo Sono state comunicate Cose non vere E ti posso dire una cosa È stata colpa mia Perché io ho messo Io Lorenzo Ho messo Una storia Amici stretti Amici stretti Erroneamente E come è successo Con le persone Hanno preso E hanno creato Delle loro De loro realtà Ma non è successo niente Quindi mi sono ritrovato Con te Che mi hai smesso di seguire Che ho capito Che Cristiano ha detto Qua situazione è delicata E niente Io volevo Solo dire Seguiamoci di nuovo Se ti va È un modo per fare pace C'è sempre indietro fine Ma allora Il modello Ovviamente Celeste Celeste Di mare Segui Ecco Ovviamente La persona che è bella Non so è stata tu Né gli amici È stata Cristiano Lui Mario Cristiano Lui Però ovviamente Io mi sono sentita Tipo tradita Anche da Da te Anche se non mi conoscevi Cioè siamo conosciti poco E anche dagli amici Che mi conoscevano Leggermente di più Su questo hai ragione Forse sono stata una persona Che ha L'immagine Ha avuto una Anche perché Due giorni prima Che lui partisse Con te in Sardegna Noi stavamo a Ibiza insieme Cioè capito Non è una questione Che noi Eravamo lasciati Chattavamo eccetera eccetera E quindi Non c'era nulla Due giorni prima Cioè stavamo insieme E Cristiano stavamo a Ibiza Poi io solo dovevo partire Con i miei genitori Cristiano sa Ok io penso di partire Con i miei amici Manco l'avessi fatto Per ripicca E poi Posso spezzare Una lancia A favore di Lorenzo Lui non ha visto Niente di eclatante Niente di sbagliato Per questo non ha fatto nulla Però immagino a me A casa da sola A piangere Tutto il giorno No ci sta Questo mi dispiace E nel frattempo Vedevo Voi che sono In discoteca Poi Cristiano Mi prendeva pure in giro Tutto ciò Cioè dicevo Cristiano stai qui No Poi vedevo la posizione Stava lì Cristiano stai facendo questo No su questi temi Non so Però ti dico Anche questa cosa Non me le ricordo Perché io Perché io ti ricordo Quando siamo conosciuti La prima volta In quella serata Io ho avuto sempre Penso sempre Stato super rispettoso Quella vacanza lì Noi eravamo Tanti piccoli gruppi diversi Per esempio C'era Lemon Io ero con Mattias Che è il mio migliore amico Da sempre Quindi diciamo Io ho incontrato Amici miei della Sardegna Siamo stati con Costantino Si erano create varie cose Io mi ho solcherato Tutta la vacanza ovviamente Quei profili finti Tipo No no col mio Io non ho problemi Poi mi ricordo Questa cosa E chiudiamo con l'ampolla colosa Che è un messaggio di Celeste Tipo Che non avevo mai parlato Tipo Mi arriva la notte Tipo mi ricordo Questo messaggio Lorenzo Lorenzo Mi dici dove è Cristian Io non è che non lo volevo dire Situazione scomoda No 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 Eravamo solo in posti diversi Io sono andato in posti diversi C'era l'Ambra L'Una Comunque va bene Questo tema Poi decidiamo se mantenerlo o meno Però ci tenevo a chiarire E ti volevo anche chiedere scusa Se hai percepito in me Un doppio gioco O comunque Farti del male O essere parte di questo domani No no Al paese dei parocchi Succede anche questo No ci tenevo Io ho aspettato anche questo momento E niente Niki Quella è l'ampolla colosa Ci sono delle domande Un pochino più scomode Come dico sempre Può andarvi bene Può andarvi molto male Una testa Una testa Pescate a caso Te la do io così Prendo io la responsabilità Chissà che domanda No parla tu Non mi piace Questa è tua Ma io non so parlare Fammi la cella tua Ma si possono scambiare? Sì Dai L'importante è che sono queste due Uno dei due deve rispondere Vai Inizia Celeste Va Prima le donne No prima Lu Prima Cristel Devo studiarmi la risposta Non l'ero preparata La devo leggere Sì 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 Se avessi la possibilità Di risolvere un problema mondiale Quale sarebbe? Ma Non vorrei fare troppo il perbenista Non lo so C'è una cosa tipo Che ti colpisce tanto Io so che tu sei anche Una persona molto di cuore C'è una cosa che dici Che ti fa incazzare Dici questa cosa la vorrei risolvere Se fossi Dio Se fossi un nus Intelligente Vabbè Un problema mondiale Quindi possiamo parlare anche di O se fossi un politico Fantascientifica Sì 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 Sicuramente Penso che Ci sono alcune cose nella medicina Che non capisco Dai mettiamola così Ad esempio se posso Speculazioni su terapie Su alcune malattie Bene Interessante È dato un tema che non pensavo Rispondessi questa cosa Ci sto Vedo che vanno avanti Su cose Assurde E non riescono a trovare Parla ad esempio dell'oncologia Aspetti dei tumori Sì 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 Questo è un tema delicatissimo Anche perché ho perso una nonna Cioè capito Quindi Questa è la cosa che risolverei Probabilmente Ok Grazie È stata una bella risposta Bella risposta Sì non me l'aspettavo Neanche io me l'aspettavo A me c'è Bravo A me c'è scritto C'è qualcosa che Non hai mai avuto Durante la tua infanzia Che vorresti Che i tuoi figli avessero Bello anche questa Come domanda Però forse la risposta Non è bella Come quella di Christian I miei genitori Cioè mia mamma E il marito di mia mamma Essendo molto piccoli Mi hanno sempre cercato Di accontentare In ogni cosa Cioè non mi hanno mai fatta Disperare per una cosa Io non ho mai chiesto Boh Chissà cosa Nel senso Però ogni minima cosa Che chiedevo Che ne so Andiamo a mangiare la pizza Una stupidaggine Loro mi accontentavano E solamente oggi Mi rendo conto Che tante cose Che ho fatto a piccola Magari lì per lì I miei non potevano Oppure non era il merito Il periodo adatto Eccetera Loro pur di Accontentarmi Hanno fatto Il possibile Diciamo Tanti sacrifici Insomma E di questo Sei contenta? Sono contentissima Però io con i miei figli Non lo farei Cioè io con i miei figli Farei capire Che se oggi è no È no Punto Bellissimo Bellissimo Perché tanto Io credo che le cose Per farle poi In futuro Devi viverle prima Ragazzi posso dire una cosa Io mi permetto di dire questa È stata la puntata più simpatica Anche secondo me C'è stata una conversazione Che mi ha dato tanto Cioè mi sono divertito Abbiamo parlato di tante cose Sarà unica Perché ho deciso In questa puntata Di chiederti scusa È una cosa a cui tenevo E Prima di concludere Abbiamo due regali per voi Non lo sapevo Che bello I regali mi piacciono Sì 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 I regali è una cosa C'è una tazza come questa È una tazza Diciamo che è intuitiva Non conosco il pack È una tazza E sapete perché? Grazie Perché diciamo che Il logo del Paese Barocchi E Christian Sard Già glielo ho raccontato È una cosa a cui noi teniamo molto Perché nasce prima Il nome quasi in simpatia E poi il progetto associato Ed è un logo Che a noi piace tantissimo Perché è completamente Fatto a mano Lo dirò per sempre E a me queste cose Fanno impazzire Perché poi sono amante Di arte Si mi fa impazzire E questo è un regalo Così potete ricordare Della puntata insieme Grazie per essere venuti Grazie a voi Quindi grazie mille Di esservi scomodati Un abbraccio a tutti Grazie Ciao 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 Ciao